Il 20 ottobre Al Black Horse di Cervano Vittorio stessi che mi sta tornando Venerdì 20 ottobre Toxicity al Black Horse di Cervano E adesso vi faccio sentire qualcosa Per farvi venire l'acquolina Venerdì 20 ottobre Toxicity al Black Horse di Cervano E ricordatevi che Francesco Gambani È il figlio di Marco Columbro Ma che bella suona Se la volete sentire Venerdì 20 ottobre Al Black Horse Pensare che te la suonavo nel telefonino Mucucca Mucca Mucca Mucca